Roberto Pedrazzini, Marans Italy, ovvero che fai in Marans Italy, chi sei? Diverse cose, diverse cose, vabbè, Roberto è qui perché quest'anno la saletta di AV Magazine è stata sponsorizzata soprattutto da BenQ Italy, che ci ha fornito videoproiettori, ci siamo divertiti quest'anno con il W5007, con l'X3000i, il proiettore gaming, con il V7000 e anche con un piccolo proiettore portatile, il GV11, però la parte audio l'ha fornita Marans Italy in collaborazione con un paio di rivenditori romani, Garman e Centro Musicale, esatto, e quest'anno abbiamo giocato in un campionato diverso, possiamo dire così perché abbiamo sicuramente un'anteprima che è il nuovo Denon AVR 2008 HDAB, che è un nuovo integrato multicanale, sette canali amplificati, Dolby Atmos, DTSX, molto potente, molto divertente, abbiamo una serie interminabile di sorgenti, abbiamo l'HTPC Digifast, abbiamo un lettore Blu-ray Sony, un clone cinese dell'Oppo e abbiamo portato anche un paio di console, ovvero una PlayStation 5 con uscita a 120Hz per giocare con il piccolissimo proiettore BenQ, l'X3000i, che accetta appunto il 120Hz con un lag molto ridotto, e lì ci siamo divertiti da matti, e soprattutto la Xbox One, una vecchia Xbox One che ha la particolarità dell'uscita Dolby Atmos, cioè è stato straordinario, tu l'hai visto? Sì, l'ho visto, è, devo dire, estremamente coinvolgente, mai avrei pensato all'acustica di un videogioco così coinvolgente, direi che è la definizione più corretta. Il rendering in tempo reale, il Dolby Atmos è sconvolgente. Poi abbiamo la parte ancora più interessante, sotto certi punti di vista, che è il sistema di riproduzione sonoro, cioè i diffusori, che sono? Che sono questi diffusori? Sono la nuova serie Polk Audio Monitor MXT, che è il livello di ingresso dell'azienda di Baltimora, per cui questo è il loro prodotto entry level, la prima fascia delle quattro linee di diffusori di Polk Audio. Poi invece sono, dietro come Surround, le Bookshelf, le MXT20, per fare un sistema 5.1.2, perché ci sono anche i canali Dolby Atmos. In questo caso abbiamo utilizzato per i diffusori frontali la MXT60, che è il diffusore da pavimento più piccolo di questa serie, diffusore interessante perché monta un driver da 6 pollici e mezzo, cioè da 16 cm, un tweeter a cupola morbida da 25 mm, la cui guida d'onda è realizzata con la stampante 3D, e la prerogativa di questo diffusore è che ha un caricamento in reflex passivo, ovvero non ha una porta reflex, non è una sospensione pneumatica, ma adotta due driver passivi da 16 cm. Su questo diffusore è appoggiato idealmente il canale Dolby Atmos, in questo caso sempre della stessa serie, questo specifico diffusore proprio per la riproduzione dei canali di elevazione, dotato di un driver full range e con un crossover a specifiche Dolby, completato poi dall'MXT30, che è il canale centrale, anche esso in questo caso con doppio driver da 13 cm, e il medesimo tweeter che fa da driver per le alte frequenze di tutta la serie. Questo è il sistema. Invece, qui ripeto, siamo rimasti con i piedi per terra, ci siamo divertiti tantissimo, il pubblico è stato veramente difficile da gestire in alcuni momenti, e secondo me questo deve essere anche uno stimolo, molte persone si sono lamentate, perché ci hanno detto, ma allora quanto ci fate spendere per i sistemi di fascia più alta, a parte gli scherzi? Veramente, molte persone hanno sottolineato che ci serve uno spunto di riflessione, perché questi componenti, con questo rapporto di prezzo così elevato, spesso non si conoscono, questi non li conoscevano, quindi andrebbe, secondo me, investito anche un po' più di tempo per farli conoscere. Oggi abbiamo, grazie a questa linea di prodotti, grazie ai nuovi integrati anche di fascia di ingresso di Denon, l'opportunità di realizzare un sistema audio-video, non dico alla portata di tutti, ma diciamo alla portata di molti, nel senso che non necessariamente bisogna investire cifre significative per costruirsi un sistema assolutamente gradevole, assolutamente prestazionale, in grado di traguardarci all'interno di questo mondo, entrandoci dalla porta principale, e non facendo scelte troppo compromissorie da un punto di vista delle prestazioni. Benissimo, quindi questa è un'esperienza che si deve assolutamente replicare, e anche triplicare, anche di più, promesso? Prometto, faremo altre sessioni utilizzando il medesimo approccio e magari anche, perché no, i medesimi prodotti, integrandoli magari con il diffusore da pavimento un po' più grande, questa è una stanza nella quale questa dimensione è assolutamente sufficiente, ma si possono sonorizzare con lo stesso livello di diffusore anche ambienti dimensionalmente più grandi. Però poi mi servirà anche la scorta. Perché la scorta? Per cui ci vogliono ammazzar tutti questi che stanno adiacenti, soprattutto perché faccio nomi e cognomi, hanno anche ragione, Giochino Ballo di Axiomedia, e i ragazzi di M2Tech soprattutto, che non erano molto felici di questa abbinata. Di sentirsi sconquassare dalle bordate dinamiche di questo impianto. Molto bene, grazie ancora Roberto. Grazie a te. E buon lavoro in bocca al lupo per te per la prossima giornata. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie a tutti.